Il bong non significa niente, la droga non c'entra. C'entra e come se la prende? Comunque non sarebbe rilevante. L'eco indica un cuore sano. Parliamo dell'eco che Foreman ha scelto di non fare dopo che ho frantumato il suo sogno di grande creatore di farmaci. Ce l'hai con me perché forse Katner l'ha sbagliato? Non ho sbagliato l'eco. Lo so. Niente danni strutturali al cuore. Allora, se non è il cuore... È il cuore. Ha appena detto che non lo è. Non esistono solo i danni strutturali. Le droghe causano tachicardia intermittente. Il battito irregolare spiegherebbe la del... Ma era acuto. È più probabile che sia vasculite. Nessuna traccia nel sangue. E se lo fosse non potrebbe sostenere il lavoro in fabbrica. Fai mobili da sola. Vuoi che lasci il suo lavoro perché si sente debole? Le servono gli steroidi. Gli steroidi alterano il battito e potrebbero rendere il suo iperalterato. Foreman, somministra le i-beta bloccanti. E voi tre fate qualsiasi altra cosa che non sia quella che fa Foreman. Iniziate la terapia. Chiamatemi se avete bisogno. Il battito irregolare può causare ristagno del sangue nei polmoni. I beta bloccanti impediscono che possa accadere. Ma io non avevo problemi al cuore. È che alcuni aritmi vanno e vengono. Perciò o non credete a me o al vostro test. Caspita, siete più cinici di me. C'era un bong nel tuo appartamento. Siete entrati nel mio appartamento. L'uso prolungato di droga può aver danneggiato... Il bong è del mio ex ed è per questo che è un ex. Il che non prova che non l'hai usato. No. E non avete motivo di credermi. Perciò fate la terapia. Un'altra ipotesi possibile è che tu abbia una vasculite. In quel caso dovremmo darti gli steroidi. Ma se hai preso delle droghe che ti hanno danneggiato il cuore, gli steroidi potrebbero anche ucciderti. Ripeto, non mi sono drogata. Vado a prendere gli steroidi. Romano. Morra. 亮ere il cuore 4 Abrema Hip Ad Fu Dis Pian Bi Chi